ciao raga ciao ragazzi siamo qui e io sono di notte sono 11 e mezzo non scorsavo sono le 17 e 57 tipo le 6 è già buio perché come vedete ragazzi è buissimo e allora adesso andiamo al film perché prima ci è capitato una cosa bruttissima c'è ci sono ormai al film di buio e abbiamo visto qualcuno ho passato due gatti neri davanti si c'era un uomo ci guardava fin solo due gatti neri ci passano stiamo corsi e ora abbiamo detto di andare e siamo qui con voi qui fino a sinistra fino a sinistra almeno si fa un'altra calzata e che parte si dice adesso a sinistra perché cazzo guarda lì com'è buio ragazzi adesso andrà lì dove c'è il buio madonna si infatti c'è oh cosa vede deve arrivare a quanti like a 88 se succede qualcosa vai no vai percevo la canzone che non ci succeda nulla 100 like dai 100 like c'è no guardate no forse da qui non si vede però lo vedete è tutto buio no no ma si vede ecco ecco il cuccario va in giocazione la scena di allumin ragazzi si spettrale e allora ora si incomincia ragazzi vaffanculo che cazzo ora no 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 la cazzo ragazzi madonna no ma che con lo farebiamo colare no 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 che cazzo ci ho visto prima scena stavate ragazzi no non c'è più no no ragazzi madonna senta non so se c'è non ho capito no 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 facciamo il girone grande no ragazzi no no allora mentre lui sta registrando faccio una diretta a Instagram e vediamo se qualcuno partecipa allora ragazzi iniziamo a vedere in diretta no andate no non posso far male ragazzi vi faccio vedere davanti a noi come vedete è tutto buio non abbiamo fatto il posto metto tutto buio non è montato tutto buio non è montato non si sa neanche come si fa beh appunto io so se lo scrivo il mio nome io so non so una chicca penna quando sono a casa la penna so che cos'è non so la scuola no non lo scordo cazzo 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 caz Allora, ora andremo giù, ragazzi Ragazzi, qui c'è una bella visuale Secondo me vi caccherete sotto Perché là dietro, ma mica loro stanno sotto Mi sa che ci stiamo sotto noi E il resto, guarda Quella lì è la mamma di me Ah, quello è lo sparato? No, quello è lì che è tra noi tutti Ragazzi Allora Io No, dai, veramente Facciamolo davvero, ma è prima Vabbè, mi sono fatto Cazzo, no, 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 che madonna Ragazzi, non ce la faccio Ma che cazzo Ma che cazzo Se ci sei, dacci un segno Madonna, vai a caccare Ma E l'ha fissata No, 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 ho visto un ombro E cazzo L'ha fissata L'ha fissata L'ha fissata L'ha fissata Davvero Davvero Vuoi anche le campane Sì, madonna Andiamo in piazza Un secondo, vai Ma vuoi anche le campane Ora, madonna No, 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 ragazzi Mi dispiace Mi dispiace ma Cazzo, io stasera un berma Io stasera Andrò Andrò a letto alle 6 Ma non dormire mai Nella notte di Halloween Ci sono passati due cazzi neri Sono andati Che a sbocca Alcuna davanti Di nulla Cazzo Ragazzi Sì, anche se non ci stiamo andati Vedete subito da like E un giorno ci andremo insieme Non saremo solo noi due Ma altri Dei nostri fanghi Taghi, taghi, dai Sì Sono famosi Gadagniamo 80.000 euro Alla scoperta di un video Sì, è ancora ricchi Sì, è ancora ricchi Vedi, vogliamo Tutta nostra Vabbè Abbiamo trovato Ragazzi No, 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 no Ma vi sono fissata Non ho detto No, madonna Celle campane Nel giorno di Halloween Ci passano tatti neri Si vede qualcuno Cazzo Cazzo No, no Ragazzi Qui ci vuole subito un like Anche se non siamo subito in diretta Per un like Taghi Taghi Un coso Sì, le pulsate lo sotto E iscrivetevi Ora non si sa Se si fa Perché lui è Filippo Giorgio Noi youtuber Io sono lì nel 58 Però Si farà un Diciamo Un canale insieme Sì E Scrivete anche sotto nei commenti Un nome Che potrebbe essere Il nostro canale Il nostro canale E Forse Forse Usciranno anche video Nerf Un pochino a caso Via Un pochino a caso Allora ragazzi Scrivete un commento Hashtag Un pochino a caso Vai Subito Un pochino a caso 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 Grazie a tutti